Allora, anche oggi siamo qui in prima linea perché riteniamo importante difendere il territorio. L'abbiamo scelto come forma di servizio, siamo dei sindaci e come tale portiamo la voce dei cittadini. L'Anci ci ha accompagnato in questo percorso, un percorso che noi riteniamo importante perché se stiamo insieme e facciamo l'unione dei comuni, cioè diamo forza alla nostra voce, probabilmente difendiamo una volta per tutte questo territorio. Capiamo le difficoltà, capiamo le preoccupazioni, le condividiamo, ma troviamo giusto che a pagare siano sempre gli stessi. E' ora di cambiare, Italia deve essere fatto come veramente ci sono gli sprechi e non i comuni che salvaguardano il territorio.